Benvenuti all'agenda del tempo libero. Da martedì 7 a giovedì 9 febbraio torna a Teatro Fraschini di Pavia Luca Zingaretti con una pièce dal titolo Pride. Mercoledì 8 febbraio 2017 presso l'oratorio Santa Teresa di Borgarello Diego Vallati presenta il suo viaggio da Pavia a Chernobyl, diario di un ciclo viaggiatore. Venerdì 10 febbraio alle ore 21 al Teatro Fraschini di Pavia la principessa Sissi Musical, il musical tratto dalla storia di Sissi. Al Teatro Sociale di San Nazaro sabato 11 febbraio secondo appuntamento con la rassegna teatrale tra palco e realtà. In gruppo teatro Tempo Carugate propone la cena dei cretini. Sabato 11 febbraio alle ore 21 il Teatro Fraschini di Pavia presenta Venere in pelliccia. In scena Walter Malosti e Sabrina Impacciatore. Sabato 11 febbraio il Teatro Sociale di Stradella, la compagnia La Vecchia Stradella alle ore 21 porta in scena Salute uguale denaro, ossia farsi curare e forse guarire. Sabato 11 febbraio alle ore 21 il Cinema Teatro Odeon di Vigevano ospiterà uno spettacolo il cui incasso sarà devoluto al progetto Odeon assenza barriere. Sul palco la banda di Origio, un complesso di 60 elementi con un repertorio di brani bandistici, classici e della tradizione operistica. Continua fino a 25 febbraio Viaggio e Fotografia nel Giappone dell'Ottocento, presso la Residenza Universitaria Biomedica della Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina da Siena. Con questo è tutto, l'Agenda del Tempo Libero torna domani. Grazie a tutti! Grazie a tutti!